Vengono in vacanza a Villa Lago e si intossicano per l'esalazione di monossido di carbonio e quando è accaduto ieri una coppia di pugliesi, lei 70, lui 73 anni, che si è intossicata per l'esalazione di monossido di carbonio provenienti, stando almeno alle primissime informazioni, da una caldaia a metano malfunzionante posta nella loro abitazione di Villa Lago, dove si sono recati per trascorrere una breve vacanza. L'ironia della sorte ha voluto che il periodo di relax poteva trasformarsi in tragedia, proprio in seguito alla sintomatologia manifestata dalla coppia, che nel frattempo era stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona, il personale sanitario ha allertato il centro iperbarico, iperbarica triatica di Fano, danni riferimento per Abruzzo, Umbria e Marche per organizzare il trasferimento e il trattamento in camera iperbarica. La coppia di aieri accusava cefalea e malessere, sintomi legati all'intossicazione da monossido, tant'è che stavano quasi perdendo i sensi. Da qui ricovera in ospedale la terapia a Fano, che ha consentito ai due di riprendere le forze. Le condizioni sono in netto miglioramento. Non a caso nel primo pomeriggio sarò disposto il trasferimento a Sulmona. Si spera che ora la vacanza proceda senza più intoppi.